Va bene, allora oggi continuiamo chiaramente il ragionamento sui cicli, vedendo qualche casistica in più, provando a fare anche qualche esercizio che ci aiuterà un pochino a mettere in pratica queste cose. Volevo prima però di vedere degli esempi pratici, degli esercizi, ragionare un po' su alcune condizioni frequenti che si possono verificare. Quindi seguiamo per un attimo ciò che ci propongono le slide. Il primo argomento, il primo tema è quello dei valori cosiddetti sentinella, che cosa significa? Significa che immaginate di dover scrivere un programma che legga una serie di numeri dall'utente, questo utente inserisce una serie di numeri, magari dei voti, allora preso 18, preso 28, preso 25, preso 30, eccetera, eccetera. Il programma in un ciclo andrà a leggere questi valori. A un certo punto però il ciclo dovrà terminare. Terminerà quando? Quando l'utente ha inserito tutti i valori che doveva inserire. Allora come fa il programma però a sapere quando l'utente ha inserito tutti i valori che deve inserire? Dobbiamo inventarci un meccanismo per cui l'utente possa dire al programma senti ho finito di inserire i dati. Questo si può fare in diversi modi, vedremo almeno tre modi diversi, di fatto per segnalare la fine di una sequenza di valori, soprattutto si usa quando facciamo una input, una cosa di questo genere. Un modo è quello di usare il cosiddetto valore sentinella, cioè un valore che di per sé non sarebbe valdo, non sarebbe lecito e lo usiamo proprio come indicatore, come sentinella, come elemento che evidenzia il fatto che la sequenza sia terminata. Ad esempio se il nostro programma dovessere inserire dei voti, noi potremmo dire che 50 non è un voto legittimo, oppure meno 1 non è un voto legittimo e allora quando l'utente vuole terminare l'inserimento dei dati inserisce 50 oppure inserisce meno 1, oppure inserisce un valore che possiamo scegliere arbitrariamente a piacere nostro, che però non sia confondibile, non si possa confondere con i valori effettivi da inserire. Qui nell'esempio che c'è riportato sulla slide fa un ciclo, un ciclo while, in cui come vedete l'operazione principale è questa, totale uguale totale più salario. Il salario è un dato che viene letto qua, l'input è dentro il ciclo. Quindi in realtà questo ciclo qua che è rappresentato nella slide non fa altro che chiedere all'utente ripetutamente, perché si è dentro un ciclo while, di indicare qual è il suo salario, qual è il suo stipendio e fa la somma di tutti questi valori. Quindi concentriamoci per ora sul corpo del ciclo. Quindi leggo un dato, se questo dato è maggiore di zero, se vogliamo un controllo in più, sommo al totale il valore del salario e ripeto questo. Quindi sto sommando il salario del 2021, quello del 2020, quello del 2019, 18 e così via, in modo da calcolare un totale. Già che ci sono, mentre calcolo il totale, tengo traccia anche di quanti dati ho inserito e quanti dati ho sommato. Fin qua è tutto bene. Il problema è come faccio a dire al programma che ho finito di inserire i dati che avevo. Allora in questo caso è stato usato un trucco di controllare, usare come condizione nel ciclo while questa qua, cioè il salario maggiore di zero. Quindi si presume che se io devo inserire un dato che viene sommato agli altri, questo dato abbia senso se è positivo. Nel caso in cui il dato che inserisco non sia positivo, tipicamente sia nullo, valga zero, allora cosa succede? Cosa succede se l'utente inserisce zero qui? Allora salary varrà zero, questa if è falsa, perché il salario è ancora vera, perché se inserisco zero è un dato valido, poi torno su alla condizione while, ah no scusate, inserisco meno 1, ho detto male il codice, se inserisco meno 1 come valore. Allora salary sarà meno 1, questa condizione if sarà falsa, quindi non faccio queste operazioni, torno su al while e controlloro se salary è maggiore o uguale a meno 1, se meno 1, cioè salary è maggiore o uguale di zero, in questo caso non sarà maggiore o uguale e quindi esco dal ciclo while. Quindi in questo modo cosa sto facendo? Quando l'utente inserisce un dato strano, strano in questo senso, ci siamo messi d'accordo che lui debba inserire meno 1 per terminare il ciclo, io esco ordinatamente dal ciclo. Quindi la condizione di uscita dal ciclo è se il dato inserito dall'utente, in questo caso, non è un dato normale ma è un dato particolare che abbiamo concordato prima, allora esco dal ciclo. È chiaro che questo ha senso perché il salario è un valore che deve essere necessariamente positivo, allora posso usare come valore sentinella un numero negativo. Mi fate notare sulla chat che qui c'è un livello di indentazione che l'avevo notato anch'io è sbagliato, questa IF non deve essere indentata qua sotto, questa IF deve essere allineata qua, correggerò subito la slide. Facciamo un esempio più completo, sempre su questo tema qua. Quindi immaginiamo di voler calcolare magari il salario medio da una serie di valori, quindi una serie di anni o di mesi in cui per uno stipendio vuole calcolare la media. Allora, come lo facciamo? Io non andiamo a vedere la soluzione già pronta sulle slide, ce lo possiamo calcolare, ce lo possiamo creare insieme, quindi chiamiamolo salario medio e lo usiamo come pretesto per studiare le condizioni di terminazione dei cicli. Allora, diciamo così come commento iniziale, diciamo che vogliamo acquisisci una serie di dati che rappresentano dei salari, i salari di diversi anni e calcola la media di tali valori. L'inserimento dei dati termina quando si inserisce il valore cosiddetto sentinella, meno 1. Questo è ciò che vogliamo fare. Allora, possiamo iniziare ripetendo l'operazione che vogliamo fare, quindi innanzitutto l'operazione, il corpo dell'operazione che dobbiamo fare è l'acquisizione di un dato, quindi acquisisci un dato, un nuovo dato e poi aggiorna somma e conteggio. Chiaramente quando ho finito tutto dovrò calcolare la media come somma di valori diviso il conteggio dei valori stessi. Quindi noi dobbiamo ripetere, questa è l'operazione centrale che dovremmo ripetere. Acquisire un nuovo dato è facile perché basta scrivere dato uguale plot di input di salario a due punti e quindi qua leggo un nuovo dato, qui non sto facendo nessun controllo dell'ore particolare. E poi faccio l'aggiornamento dei valori sulla base di quel dato che è stato inserito, quindi la somma di tutti gli stipendi, l'aggiorno tenendo conto anche di questo dato che abbiamo ricevuto e il conteggio viene aggiornato, come facevamo ricordate ieri con gli anni, incremento di 1 una variabile che avevo già. Questo è il corpo del ciclo, di ciò che dobbiamo ripetere nel nostro programma. Leggiamo un dato e con questo dato ci teniamo traccia delle somme parziali e ci teniamo traccia del numero di elementi che abbiamo trovato. Questo va ripetuto, va ripetuto più volte perché devo leggere non un dato ma una serie di dati, quindi questo lo metterò come corpo di un ciclo while e quindi lo prendo e lo rientro tutto con un colpo di tab. A questo punto mi chiedo, ovviamente sono in un ciclo e quindi queste variabili somma e conta le dovrò inizializzare a dei valori sensati, quindi all'inizio la somma, quant'è la somma degli stipendi che ho letto se non ne ho ancora letto neanche uno? Zero. Qual è il numero di stipendi che ho letto se non ne ho letto nemmeno uno? Sarà zero. Quindi l'inizio di entrambi è zero dove somma lo intendo come numero in floating point e conta come numero intero. E alla fine la condizione di uscita è finché l'utente sta inserendo dei dati sensati, dei dati validi, io continuo a leggere. Quando l'utente inserirà il valore particolare meno uno, allora devo terminare di leggere. Quindi di fatto la mia condizione cosa diventa? Diventa while dato diverso da meno uno. Cioè io acquisisco dati finché l'utente mi inserisce dei valori che non siano questo valore particolare, il meno uno, che abbiamo concordato che è il valore che ci fa uscire dal ciclo. Vogliamo che ci faccia uscire dal ciclo. Ok? È un po' strano perché dite ma aspetta stai controllando dato diverso da meno uno prima di leggerlo? Beh in realtà sì e no, nel senso che io a un certo punto il programma eseguirà il ciclo, linea 11, linea 13, linea 14, poi torna su alla linea 9 e allora alla linea 9 andrò a controllare il dato che ho letto prima, che ho letto un attimo prima. Ok? Poi per rispondere ai messaggi che stanno circolando nella chat, io posso essere più o meno, diciamo così, preciso nel definire cos'è il valore della sentinella. Potrei dire che qualunque valore negativo mi fa interrompere la lettura e allora a questo punto qua potrei mettere while dato maggiore o uguale 0 come c'era sulle slide. Se invece voglio essere più preciso e dire no, ma il valore che devi inserire per terminare è esattamente meno uno, allora in quel caso ho questo tipo di controllo. Quindi sta a me, diciamo così, decidere il criterio. Io il criterio che ho detto è devi inserire esattamente meno uno, mentre invece, diciamo così, quello che c'era sulla slide che abbiamo visto prima, quel maggiore o uguale 0, di fatto mi diceva qualunque valore negativo interrompe l'inserimento. Io l'ho scelto di definirlo così e quindi di conseguenza lo implemento accettando solamente il meno uno come dato. Poi purtroppo non stiamo facendo per brevità nessun controllo sui dati d'ingresso, quindi assumiamo che siano corretti. Il problema, dicevamo, stavamo parlando sul significato di questo confronto, il confronto viene fatto prima di cominciare l'iterazione successiva sul dato che è stato letto all'iterazione precedente. A questo punto però nasce un problema, alla prima iterazione qual è il valore di questo dato? Perché se io provassi a eseguire il programma così, lui immagino che si fermi subito e infatti mi ha dato subito un errore dicendo che il nome dato non è definito alla riga 10. Cioè questa variabile la sto confrontando ma non ce l'ho ancora. Non ce l'avrò ancora finché non avrò letto il primo dato. Allora cosa posso fare? Potrei dare a questa variabile un qualunque valore innocuo. innocuo nel senso che mi faccia entrare nel ciclo while, che non mi faccia uscire dal ciclo while. Tanto questo valore viene immediatamente sovrascritto, modificato dalla riga 12, quindi è un valore che non serve a nulla ma mi permette di dire ok siamo al primo giro, fammi entrare nel ciclo, poi dopo vediamo. Quindi possiamo mettere un valore dato uguale 0 ma anche uguale 77 se volessimo. L'importante è che sia diverso da meno 1 e qualunque sia questo dato viene, rende falsa questa condizione e subito dopo viene sovrascritto, viene sostituito dal dato vero che l'utente inserirà attraverso la input. Quindi questo è un dato fasullo, valore iniziale, fasullo, solo per entrare nel ciclo. Alla prima volta, alla prima iterazione. Allora questo dovrebbe funzionare, noi possiamo stampare, adesso prima di calcolare la media mettiamo una stampa di verifica dopo il ciclo while chiaramente e quindi possiamo stampare la somma. Ah vi insegno un trucco, se io in una fstring metto il nome di una variabile seguita dal sembolo uguale, lui mi stampa automaticamente il nome della variabile, quindi mi scrive somma uguale e il numerino. Quindi soprattutto per le print di controllo interne che poi non fanno parte realmente del programma, è una scorciatoia per non dire la somma vale, somma e il conteggio vale, conta. Il trucco semplicemente è quello di aggiungere un simbolo di uguale dopo il nome della variabile. Allora vediamo se questo funziona, fino qua. Proviamo a eseguirlo, adesso effettivamente non si ferma più, non mi dà più errore, io posso inserire un salario, che ne so, di 1000, poi ne inserisco un altro di 500, qui vieni giù al posto giusto, e poi per terminare devo inserire meno 1. Alla fine lui mi dice che la somma dei salari ricevuti è 1499 e il conteggio dei salari inseriti è 3, che sono valori sbagliati, perché in realtà io ho inserito 1.500 fa 1.500, non 1.499 e i salari ne sono inseriti solamente 2, il primo e il secondo, quindi il conto dovrebbe valere 2. Perché me lo sbaglia? Perché sta aggiornando somma e conteggio anche quando il dato inserito in realtà non era un dato vero, ma era un dato sentinella, era un dato anomalo, il meno 1. Infatti ha sommato 1.000, ha sommato 500 e poi ha sottratto 1. Per cui questo meno 1 che ho letto qui ha fatto sì che il programma venisse comunque elaborato e trattato come se fosse un dato vero. Allora io devo impedirlo questo. Per impedirlo basta, dopo che ho letto il dato, fare un controllo del tipo se questo dato è proprio il meno 1, allora non fare somma e conteggio, altrimenti qualunque altro dato invece devi farlo. Quindi devo aggiungere qua un'altra if, se anche qua dato diverso da meno 1, allora fai queste cose, ma solamente in questo caso. allora se riprovassimo adesso, inseriamo 1.000, inseriamo 500, inseriamo meno 1 e correttamente mi dice che la somma fa 1.500 e il conteggio vale 2. Perché questo ultimo dato non è un dato vero e quindi non devo elaborarlo. Quindi questo è un modo possibile di gestire questa situazione, acquisire dei dati finché non si inserisce un valore particolare. Ha due difettucci. Un difetto è chiaramente questo ricordarsi di inizializzare il dato iniziale in un certo modo sensato, che mi faccia entrare nel while e non si possa confondere con i dati veri. L'altro difetto che mi piace poco è che questa condizione, dato diverso da meno 1, l'ho scritta due volte. E quindi se io tra un attimo dovessi decidere, ma no guarda, il valore sentinella non mi piace che sia meno 1, decidiamo che sia 0, ad esempio, allora devo andarmi a ricordare che devo correggere sia qua, sia qua. Ovviamente se prendo come sentinella da 0 devo anche aggiornare il dato iniziale mettendo un valore diverso da 0. Questo è uno dei metodi molto utilizzato per fare queste operazioni. Di fatto questa input sta leggendo due tipi di informazioni, o è un numero vero oppure è un indicatore che ho finito di inserire. Prima di vedere altre soluzioni rispondo a Maddalina che mi chiede, aspetta, non ho capito bene cosa significa questo segno di uguale. Allora, guarda, lo vediamo sotto. Se io scrivessi solamente somma, tra parentesi graffe, mi stamperebbe 1500. Se scrivo somma uguale uguale, in automatico lui mi scrive anche davanti somma uguale. Quindi è solamente una scorciatoia. Io avrei potuto scrivere tranquillamente printf, printf string, la somma vale, insomma, così. Ok? E chiaramente mi stampa il numero, solamente il numero. E come lo usiamo normalmente? Se io devo stampare un messaggio per l'utente finale, lo stampo in modo descrittivo. Ma se lo sto stampando solamente per me, per verificare che il programma funzioni correttamente, allora questo è molto più rapido da scrivere. E soprattutto mi scrive perché all'utente non lo farai mai vedere così? Perché all'utente, a parte che ci vuole una frase scritta in italiano, ma poi questo è il nome di una variabile interna del programma. Che ne sarà l'utente del significato del nome di una variabile interna? Conta uguale a due, conta cosa? Dovrei spiegarlo di scrivere in italiano. Quindi solamente una scorciatoia quando facciamo le print per il nostro debug interno, è un pochino più veloce da scrivere. Anziché scrivere solamente il numero, non mi ricordo cos'è, hanno introdotto, diciamo così, questo scorciatoia. Non è nulla di essenziale. Ok, questo era un modo, non abbiamo finito il programma perché il testo ci chiedeva di calcolare la media di questo valore. Ok? Quindi queste cose qua le possiamo commentare. Abbiamo capito che adesso funziona correttamente, per calcolare la media devo a questo punto calcolare la media come la somma degli stipendi diviso il conteggio del numero di stipendi. Ovviamente qui sto facendo divisione, quindi dobbiamo fare attenzione che si può fare solamente se conta è diverso da zero. Quindi se conta fosse uguale a zero o dei problemi. Nessuno stipendio inserito è impossibile calcolare la media. altrimenti, altrimenti sì, calcoliamo questa media e possiamo stampare che f string lo stipendio medio vale media. Ok? Allora, vediamo se funziona 1500, mettiamo sempre i stessi dati, meno uno lo stipendio medio vale 750, che è ciò che ci aspettavamo. Può mai capitare questa condizione io ho messo questo controllo perché ho fatto una divisione e ho messo le mani avanti e ho detto la divisione per zero non si può fare. Però nella realtà può capitare che io arrivi a questo punto alla riga 22 del programma con la variabile conta che vale zero. Sì, può capitare perché conta l'inizializzato a zero e può darsi che questo ciclo while non venga eseguito neanche una volta o meglio, venga eseguito solamente una volta ma in quella prima volta viene già inserito il valore meno uno e quindi effettivamente inserisco zero zero stipendi. Vediamo se funziona così salario se inserisco meno uno come prima cosa giustamente trova che conta uguale a zero quindi mi stampa questo messaggio di errore. Se inserissi un salario 1000 e poi dopo il meno uno mi dice che lo stipendo medio vale 1000 la media di un valore solo giustamente è il valore stesso questo è un modo come dicevo è leggermente antipatico il fatto che questa condizione dato diverso da uno e dato diverso da meno uno venga scritta due volte perché poi devo fare attenzione io che sia coerente ci sono altri modi di di eseguire di impostare un ciclo di questo genere sempre giocando sul valore sentinella sì certo che ci sono un altro modo potrebbe essere quello di dire ma senti il problema è che io sto leggendo un dato in un'interazione poi devo saltare le istruzioni che non mi servono perché il controllo sulla validità di questo dato lo farò solo al ciclo while successivo e quindi devo fare tutta una serie di controlli in più per non fare queste operazioni e anche delle diciamo così delle inizializzazioni in più false quindi devo fare molta attenzione ai dati ai dati che ho messo quindi l'alternativa potrebbe essere quella di dire guarda anticipiamo tutto anticipiamo la lettura del dato prima del ciclo noi potremmo decidere che il primo dato qui non metto il dato uguale a zero metto già direttamente una input allora scusate un attimo rispondo solo a un paio di domande Francesco mi hai chiesto di far vedere ho aperto quindi dovresti vedere poi se hai domande fammene Lorenzo mi dice che l'utente può inserire meno 2 come salario e sì è un errore effettivamente nel senso che i valori errati del salario non vengono controllati io qua dopo la input dovrei controllare che fosse un valore maggiore di zero maggiore o uguale a zero eccetera eccetera quindi in questo caso il meno 2 verrebbe contato come valore errato io non ho fatto qui non ho fatto nessun controllo sulla validità dei dati dovrei farlo ovviamente anche se uno mi mette 100 milioni forse non va bene quindi dovrei controllare che il range sia corretto non lo sto ancora facendo per semplicità quindi il programma non sta controllando gli errori di ingresso dicevo un altro modo di impostare questa cosa potrebbe essere quella di dire lo faccio qua sotto iniziamo a leggere un dato il primo dato leggi il primo dato a questo punto se questo dato è valido fai i conti fai questi calcoli che tanto dobbiamo fare ok e poi ripeti ripeti leggendo il dato successivo però tutto questo solamente se il dato è diverso da meno 1 allora io potrei mettere questo while qui e vediamo cosa succede se lo scrivo così leggo il primo dato se il dato è forse meno 1 già subito questo while non viene fatto e quindi esco con conto uguale a 0 se il dato invece è un dato valido sarà diverso da meno 1 e quindi queste istruzioni qua la 21 e la 22 visto che sono subito appese alla riga 20 che mi dice dato diverso da meno 1 sono sicuro che verranno fatte solo ed esclusivamente quando il dato è diverso da meno 1 e quindi non mi serve più l'equivalente di questa if che prima avevamo la riga 13 quindi più pulito da questo punto di vista che cosa manca? manca la lettura del dato all'interno del ciclo perché io il dato qui l'ho letto una volta sola prima del ciclo ma poi così facendo farebbe all'infinito la somma sempre dello stesso valore cioè se la mia variabile di controllo è il dato non lo sto aggiornando non lo sto modificando e allora devo in questo caso duplicare questa istruzione legge il dato il prossimo dato per la prossima iterazione quindi questo è un altro modo di fare la stessa cosa leggo il primo dato a parte se questo primo dato non è già la sentinella lo elaboro diciamo e dopo che l'ho elaborato leggo il prossimo dato questa lettura della riga 24 è l'ultima istruzione che c'è nel ciclo while e quindi di fatto si sta già preparando il dato per il prossimo giro quindi è già un'istruzione che serve per preparare il valore alla prossima iterazione e la metto come ultima istruzione proprio per questo e subito dopo questa istruzione della riga 24 cosa fa il programma? tornerà alla riga 20 e controllerà se questo dato che a questo punto è quello che ho appena letto della riga 24 è valido o no se si lo elabora e va avanti così in questo è un altro modo dipende poi dalle preferenze di ciascuno essenzialmente se organizzare le cose in un modo o nell'altro nel primo modo ho la duplicazione di questa condizione viene scritta due volte maledizione in questo secondo modo non c'è questa if non c'è più quindi se vogliamo più lineare però ho la duplicazione delle istruzioni di lettura del dato e se oltre a lettura del dato dovessi anche fare il controllo degli errori per vedere che non sia meno 2 che non sia una string eccetera allora tutta questa lettura e validazione del dato verrebbe ripetuta due volte non sarà poi un problema quando impareremo le funzioni nel prossimo capitolo ma per ora ci sta un po' antipatico duplicare due volte questa cosa però in entrambi i casi come vedete c'è una parte duplicata quindi si tratta poi di scegliere cosa preferite il funzionamento di questo è esattamente identico al funzionamento di quello sopra fanno esattamente la stessa cosa sono esattamente equivalenti sono due modi diversi di gestire appunto questo valore sentinella che abbiamo visto quindi sulle slide fa vedere un esempio di questo genere che è come abbiamo visto prima imposto un valore iniziale e poi controllo il valore sentinella sia ai fini dell'iterazione sia anche ai fini della elaborazione del dato oppure lo posso ignorare altrimenti qui vado avanti altrimenti c'è questa tecnica diciamo così di leggere fuori dal ciclo il primo dato il primo dato lo leggo esternamente al ciclo stesso come abbiamo visto nel nostro esempio funziona esattamente nel stesso modo poi ovviamente devo ricordarmi che i dati successivi devono essere letti direttamente all'interno del ciclo ma a questo punto devono essere letti come ultima istruzione non come prima istruzione perché le prime istruzioni mi serviranno ad elaborare il dato che avevo letto la prima volta avevo letto fuori le volte successive avevo letto come ultima istruzione dell'iterazione precedente c'è stato un po' di immaginarsi come questi cicli vengono srotolati diciamo così vengono svolti esiste un'altra possibilità una terza possibilità che fa uso di variabili cosiddette logiche o variabili booleane cioè variabili che contengono i valori vero o falso noi abbiamo già incontrato i valori vero o falso quando facevamo le condizioni i confronti a maggiore di b a uguale a b eccetera e abbiamo visto che restituivano i valori vero o falso questi valori possono essere sono valori diciamo così come fossero interi come fossero stringhe che sono tipi di dato presenti e supportati dal linguaggio e come tali quindi li possiamo anche memorizzare nelle variabili e utilizzarli per i nostri controlli quindi in pratica noi possiamo esistono due tipi di dato nuovi due valori che si chiamano false se io scrivo uno maggiore di uno maggiore di due il risultato di questo calcolo uno maggiore di due sarà falso ok io questo lo posso anche mettere in una variabile guardate se io scrivo a uguale uno maggiore di due è una cosa un po' strana ho creato una variabile a che memorizza il valore che si ricorda il valore falso qui come vedete questo valore falso non è una stringa c'è scritto bull bull valore booleano dal George bull che ha inventato diciamo così il modo di lavorare con i valori logici che è di tipo falso quindi questa variabile ha un valore di tipo logico o di tipo booleano per principio dire logico perché è più chiaro in italiano e i valori logici possono essere solamente vero e falso quindi se io scrivo b uguale a uno minore di due la variabile b avrà un valore vero invece false e true allora io posso diciamo così mi sto salvando in questo caso in una variabile il risultato il valore logico il risultante da un confronto perché poi magari questo confronto mi serve più avanti oppure volendo posso direttamente dire guarda c uguale true o d uguale false true e false sono valori come se scrivessi 3 e 7 semplicemente anziché valori interi sono valori logici booleani va bene fin qua funziona così ma cosa ci serve cosa ce ne facciamo di questa di questa capacità allora innanzitutto quando io ho una variabile booleana il valore di questa variabile può comparire ovunque nel mio programma ci sia la necessità di avere una condizione quindi può comparire come condizione di un if può comparire come condizione di un while e quindi io posso avere delle variabili che hanno diciamo così si ricordano una condizione logica se una cosa è successa oppure non è successa ad esempio possiamo avere anche qua lo scrivo nel programma aggiungendo una parte nuova un terzo modo di implementare questa funzionalità è quella di leggere comunque sempre il mio dato lo leggo così lo leggo subito e poi controllo se il dato fosse effettivamente uguale a meno 1 allora mi ricordo che sono arrivato alla fine fine uguale true altrimenti lo elaboro altrimenti lo elaboro sempre con la somma e col conteggio ecco qua ops quindi che cosa ho fatto qua qui ho letto un dato controllato questo dato se il dato è meno 1 io devo in qualche modo interrompere l'elaborazione devo prendere fare una cosa diversa ma il momento in cui potrò fare questa scelta non è adesso sarà solamente alla riga 27 quando tornerò a fare il while il problema torno su della prima versione è che quando il dato era meno 1 io qui non potevo fare altro che andare avanti andare avanti saltare queste istruzioni e aspettare che il programma tornasse alla riga 10 dove effettivamente poiché il dato era meno 1 mi faceva uscire dal ciclo while e allora a questo punto posso dire che questo ciclo while viene eseguito fin tanto che la variabile fine è falsa e ovviamente questa variabile fine la inizia da 0 io è falso al valore al valore falso fine non file quindi cosa sto facendo qua sto dicendo usiamo una variabile logica che parte falsa rimane falsa per sempre e diventa vera solamente nel momento in cui vedo il dato sentinella quando vedo il dato sentinella questa diventa vera il fatto di farla diventare vera fa sì che la prossima iterazione ciclo while uscirà perché la sua condizione fine uguale a falso non è più vera per rispondere Andrea true e false vanno scritti con la lettera maiuscola sì se lo scrivi con la lettera minuscola sarebbero nomi di variabili semplici e non sarebbero i valori logici predefiniti quindi sì la lettera maiuscola conta ok allora una variabile usata in questo modo viene usata viene chiamata variabile flag uso una variabile come flag flag chiaramente in inglese significa bandierina una bandierina può essere alzata o abbassata su o giù quindi distingo due condizioni oppure metto una spunta tolgo una spunta mi ricordo se ho visto una certa cosa oppure no se l'ho vista allora questa variabile vale vero se non l'ho vista varrà falso ok potrei usare un valore intero e dire ok lo metto a 0 qui lo metterò a 1 se per caso trovo quella condizione però sarebbe un po' diciamo così usare i numeri interi in un modo improprio invece questo diciamo così servono proprio per questi valori booleani servono proprio per congelare una condizione nel momento in cui la scopro e tenerla lì per il momento in cui mi servirà consultarla e quindi questo funziona nello stesso modo ad alcuni diciamo così può fare può piacere di più io ho una variabile esplicita anche qua è una variabile usata dentro il ciclo quindi devo ricordarmi ovviamente di inizializzarla a un valore che mi permette di entrare dentro il ciclo però qui è più esplicito se vogliamo che questa variabile mi controlla l'iterazione del ciclo quindi la variabile di controllo del ciclo è questo flag e poi ci sono i dati che vengono elaborati sono separati prima cosa facevamo prima avevamo la variabile dato che giocava sia come controllo del ciclo sia anche come valore da elaborare è per questo che dovevamo fare un po' di salti mortali di ripetizione di codice perché la stessa variabile giocava due ruoli diversi qui invece abbiamo una variabile in più una che ha il cui scopo unico è quello di decidere quando devo uscire e quindi anche se questa condizione di uscita fosse più complicata quindi che non so posso uscire dopo dieci volte che ho inserito il salario posso complicare quanto voglio questa condizione e poi una volta che la variabile fine diventa vera sono sicuro che uscirò dall'elaborazione del ciclo quindi questo è un terzo possibile modo di gestire sempre lo stesso problema il problema monte è lo stesso acquisire dei dati e terminare quando incontro un valore sentinella il modo di farlo è il più diverso io posso ragionare così con una variabile che chiamo fine inizia a farsi diventa vero ma se io duplicassi questo codice potrei chiamare la variabile continua e la faccio diventare la ragione al contrario inizia a true e se il dato è uguale a meno uno scrivo continua uguale a false e quindi la condizione sarà continua uguale a true possiamo ragionare in tutti e due i modi dipende come ci viene più intuitivo ok se il nostro flag diciamo così rappresenta la condizione positiva oppure rappresenta la condizione negativa lo tratteremo in modo ovviamente opposto però possiamo gestirlo come vogliamo per seguire meglio quello che è il nostro ragionamento che stiamo facendo l'ho citato questo perché questo per evidenziare che questo confronto qua continuo uguale a true in realtà è un po' inutile perché proviamo a andare a vedere nella console noi abbiamo detto che la variabile c vale true la variabile d vale false ok allora supponiamo che c sia la nostra continua e sto scrivendo la condizione continua uguale a true scusate c uguale a true la condizione c uguale a true è true quando c perché c era true se andassi a prendere invece la variabile d e mi chiedo d uguale a true poiché d è falsa la condizione d uguale a true è se stessa falsa allora quello che sto cercando di dire è che controllare se una variabile logica è true o no significa essenzialmente dire la stessa variabile qual è il valore della variabile stessa ok quindi anziché controllo uguale continua uguale a true adesso lo tengo sempre come commento ma il modo normale di scrivere questa cosa è while continua se continua uguale a true se la continua è true questa while si trova davanti il valore di continua che è una variabile booleana che vale true e quindi entra se questa variabile è falsa while qui sarà scritto while falso e quindi esce quindi controllare uguale a true è inutile quindi normalmente si scrive così vediamo effettivamente che questa è una variabile logica che mi serve per controllare gli if per controllare i while non devo più fare nessun confronto a sua volta il valore del confronto è già quello che sta dentro il valore che è già stato memorizzato nella variabile la stessa cosa potrei fare sopra con la variabile fine uguale falso anche qui però devo fare attenzione perché qui devo ragionare al contrario quando fine è uguale falso questo while deve entrare e quindi il while deve vedere una condizione vera quando fine è vero il while deve vedere una condizione falsa quindi il while ogni volta deve vedere una condizione che è l'opposto del valore della variabile fine allora questa condizione fine uguale falso si può anche scrivere qui lo metto sempre come commento perché si può anche scrivere così ma spesso è più leggibile dire not fine not è un altro operatore logico come and or che cosa fa semplicemente inverte nega il valore logico di una variabile quindi se io not true sarà falso e not false sarà true quindi quando fine è falso not fine quindi la prima volta fine è falso not fine è vero e quindi entro nel ciclo quando ho visto il valore sentinella e quindi ho messo fine a true allora not fine sarà falso e quindi il while esco si tratta un po' di farci l'occhio e farci l'abitudine con queste variabili ma essenzialmente sono molto comode per poter controllare il ciclo in questo modo ok e si usano quasi sempre in modo abbreviato quindi quando ho una variabile logica non ci metto uguale true o diverso da true o uguale false ma metto semplicemente o il valore della variabile o l'opposto del valore della variabile usando l'operatore not che mi va a invertire il significato logico ok quindi il terzo modo è quello di usare appunto questi flag queste variabili flag queste variabili logiche proprio per per gestire la la terminazione del ciclo nella chat mi hanno fatto notare un'altra un'altra possibilità che è eccola qua perché non arrivi perché l'arco è il 21 esiste una un'altra diciamo così istruzione di python che si può usare all'interno dei cicli che è l'istruzione cosiddetta break l'istruzione break quando viene incontrata fa interrompere prematuramente il ciclo quindi noi sapevamo che per uscire da un ciclo era necessario tornare su alla condizione e incontrare questa condizione falsa allora a questo punto esco dal ciclo in più esiste appunto questa istruzione break che quando viene se viene incontrata fa comunque uscire dal ciclo come se la condizione fosse falsa ma la differenza è che mi fa uscire anche senza completare le istruzioni dell'iterazione corrente cioè interrompe proprio l'iterazione corrente a questo punto e va avanti a eseguire le istruzioni successive al ciclo e quindi un altro modo di fare la stessa cosa se io torno sul mio codice potrebbe essere quello di da quale versione parto partiamo da quell'ultima versione col continua ok lo duplico ancora sotto potrei dire se il dato è uguale a meno 1 break poi in realtà questo else non mi serve più allora vediamo questo questo codice cosa fa imposta il flag a vero potrei anche farlo con dato uguale a 0 la stessa cosa però prendiamo l'ultima versione continua è vero quindi entro nel ciclo while leggo il dato il dato è un salario normale quindi diverso da meno 1 e allora eseguirò la somma e il conteggio torno su continua era vero è rimasto vero leggo il secondo dato è un salario normale va bene allora somma conta eccetera eccetera a un certo punto quando il salario vale meno 1 l'utente inserisce il valore meno 1 quindi il dato vale meno 1 questa condizione if dato uguale a meno 1 uguale a sentinella è vera allora eseguo break eseguire il break fa sì che il programma di brutto salti alla riga 54 55 insomma più avanti esce dal ciclo lo interrompe basta ok e quindi non ho neanche più bisogno di andare a modificare le variabili in modo che la condizione del while diventa falsa il break mi fa direttamente uscire e questo è il motivo anche per rispondere a Rebecca per cui non mi serviva più l'else qui perché nel momento in cui questa condizione fosse vera io esco dal ciclo e basta quindi queste istruzioni non le faccio più di sicuro se questa condizione è falsa questa parte qua non la vedo come se non ci fosse e quindi eseguo le somme normalmente se quella condizione è vera arrivo il break e quindi queste istruzioni qua vengono saltate automaticamente quindi non serve più il break è un po' un suicidio del ciclo while arrivo il break esco sparisco abbandono tutto e giustamente mi fanno dunque Gioia mi dice che il no Marco mi dice che il break annulla le condizioni il break semplicemente interrompe l'esecuzione del ciclo quindi è come se io avessi andiamo a prendere vedo se riesco a prendere la slide numero 5 che era questa no è come se quando io eseguissi quando io eseguo un'istruzione break è come se ci sia dal corpo del ciclo dov'è che si può fare da metà del corpo del ciclo a un certo punto prendo e salto fuori e vado direttamente al blocco D all'istruzione dopo il ciclo quindi se dopo questa istruzione break ci fossero altre istruzioni qua sotto queste non vengono eseguite vengono saltate non modifica nessun valore nessuna variabile cioè la variabile continua continua a valere continua a valere vero è chiaro che devo fare attenzione perché questo break tipicamente lo uso sempre solo sotto una condizione perché se mettessi il break senza una if davanti lui appena arriva lì esce dal ciclo e quindi questo ciclo non riuscirà mai a girare ok l'altro commento che avete fatto giustamente è il fatto che a questo punto la variabile continua non ci serve più a molto no perché perché l'ho messa a true all'inizio e poi non l'ho mai più modificata non ho più avuto bisogno di modificarla di mettere a false perché per uscire dal ciclo anziché mettere continua a false ho usato break che mi fa direttamente il teletrasporto fuori dal ciclo e allora visto che questa variabile continua ha sempre lo stesso valore cioè vero allora nessuno mi vieta di prendere il valore stesso e metterlo come condizione e quindi questa variabile continua effettivamente non mi serve più allora qui arriviamo a una forma degenere di ciclo while while true che di fatto sarebbe un ciclo infinito cioè noi abbiamo insistito la volta scorsa mi raccomando che la condizione del while deve poter diventare falsa se no rimango intrappolato all'infinito e qui abbiamo proprio scritto una condizione che per costruzione per definizione non diventa mai falsa perché essa stessa è l'essenza della verità l'essenza del true è true e basta ok quindi se io scrivo while true è il modo per scrivere un ciclo infinito ciclo infinito non ci vuole non lo dobbiamo avere infatti noi abbiamo un modo un sotterfugio che è l'istruzione break per poter uscire dal ciclo stesso allora questa forse è la forma forse più sintetica di scrivere questo ma è anche forse quella meno leggibile perché se uno legge il ciclo while non capisce qual è la condizione di uscita deve andarsi a spulciare dentro il codice se per caso c'è un modo per uscire e se c'è questo modo qual è la condizione di uscita eccetera eccetera quindi se le istruzioni sono brevi il programma sintetico allora va bene però se voi diciamo così abusate di questo costrutto break state costruendo i programmi cosiddetti non strutturati perché il flusso di esecuzione del programma non segue più il flusso di indentazione del codice perché salta qua e là dalla riga 49 salta alla riga 54 senza sapere perché senza sapere perché perché è quel break però diciamo così si rompe un pochino la regolarità di esecuzione del codice a blocchi blocchi indentati eccetera eccetera quindi l'istruzione break sicuramente è un'istruzione supportata dal linguaggio si può usare in questi casi anzi semplifica le cose però usiamola diciamo così sporadicamente non abusiamo di queste cose perché altrimenti dopo un po' il programma diventa molto più difficile da leggere mentre invece giocare esplicitamente con le condizioni è il modo diciamo così più più corretto più completo che poi funziona in ogni caso è anche un pochino più leggibile un pochino più pesante perché c'è qualche istruzione in più ma ci guadagno in leggibilità comunque di queste alternative credo che ne abbiamo viste sei una per due quindi c'era la prima che usava il dato fasullo e si inizializzava il dato fasullo la seconda in cui il dato fasullo non veniva usato ma veniva letto anticipatamente un valore poi avevamo due opzioni in cui si usava una variabile logica usata come flag una come flag che da negativo diventa positivo l'altra al contrario e poi abbiamo diciamo così l'altra alternativa che è quella invece di uscire usando break anziché facendo diventare falsa la condizione while sono tutte sono tutte alternative che dal punto di vista dell'esecuzione del programma sono identiche nel senso che il comportamento del programma è esattamente lo stesso in tutti questi casi non cambia nulla uno di questi ragionamenti uno di questi soluzioni dovremo sempre sceglierla tutte le volte che dovremo fare un programmino che acquisisce dei dati poi in questo caso abbiamo scelto come sentinella un valore meno uno in altri casi uno potrebbe scegliere come sentinella la stringa vuota cioè batinvio vuoto e questo indica il termine dell'inserimento dei dati in quel caso dovrei separare l'operazione di input dalla conversione in float quindi leggo la stringa leggo l'input come stringa controllo se è vuoto se è vuoto mi fermo altrimenti lo elaboro o cose di questo genere quindi ad esempio se volessimo mettere però un'ultima alternativa termina l'inserimento in cui la sentinella sia la riga vuota allora in questo caso leggo una riga con la input poi ho il ciclo while riga diverso da stringa vuota allora a questo punto il dato uguale float di riga quindi leggo la riga sotto forma di stringa se non è la riga vuota allora lo converto in dato e a questo punto solo a questo punto gli faccio la somma lo elaboro e poi mi predispongo a leggere la riga successiva quindi qui ho usato il metodo della lettura iniziale questo un pochino più pulito perché il controllo lo faccio il vantaggio di lavorare sulla stringa è che il controllo lo faccio su un dato che non è un numero quindi assolutamente non si può confondere con un numero valido e se invece l'utente inserisce un invio a vuoto la input da restituisce una stringa vuota una stringa nulla oppure l'utente gli facciamo inserire un asterisco allora se la riga è diverso dall'asterisco quindi posso usare come sentinella dei valori stringa non dei valori numerici questo mi semplifica un po' la vita perché non devo non devo scegliere un valore numerico che si rischierebbe di confondere ricordate all'inizio quando quel meno uno l'avevamo sommato i salari perché aveva una variabile unica che faceva tutto quindi spesso forse si possono usare come valori sentinella dei valori stringa anziché dei valori numerici quando dobbiamo inserire i numeri così non ci sono dubbi di sorta ok e con questo con queste diciamo così primitive con queste diciamo così pattern di programmazione se andiamo a vedere ci sono si possono costruire di fatto molti algoritmi banali semplici di base che lavorano sui cicli stessi ad esempio ho una serie di numeri voglio calcolare la somma questo l'abbiamo già fatto in cui essenzialmente l'istruzione chiave è questa totale uguale totale più il valore appena letto e questo totale ovviamente va inizializzato fuori dal ciclo e alla fine del ciclo avrò il valore che mi serve le altre istruzioni come vedete qua totale uguale a 0 totale uguale totale più value sono le istruzioni che fanno effettivamente l'elaborazione il resto è il meccanismo di ciclo con sentinella in questo caso la sentinella che è stata scelta è la stringa vuota su questa slide e quindi ho letto un valore sotto forma di stringa se non è la stringa vuota allora solo se non è la stringa vuota la converto in float e poi questo float value viene poi elaborato dal resto del programma quindi questo scheletro qui leggo ripeto e rileggo la riga successiva e scelgo un valore sentinella opportuno ce lo ritroveremo sempre dopo un po' ci abituiamo a generarlo in automatico e invece ci andiamo a concentrare su quella che è l'effettiva elaborazione che ci serve fare in questo caso dice il totale oppure la media la media l'abbiamo appena calcolata nel esercizio di prima la media non è altro che combinare il calcolo di un totale con il calcolo del numero di dati visti e poi fare la divisione alla fine se questo valore se il denominatore è diverso da zero chiaramente questo è esattamente ciò che abbiamo già fatto dove riconosciamo di nuovo il meccanismo di lettura con sentinella quindi ci impariamo di fatto a riconoscere non delle singole istruzioni ma dei blocchi di istruzioni che svolgono una certa funzione quello è un blocco di istruzioni che usiamo per leggere dei dati fermandoci con una sentinella più value total uguale total più value è di fatto il costrutto che usiamo sempre tutte le volte che dobbiamo calcolare una somma quindi in qualche modo in gergo si dice total è una variabile accumulatore cosa vuol dire accumulatore? che accumula una somma una sommatoria poi non è che sia una variabile speciale è una variabile come tutte le altre ma il modo in cui la usiamo ci ricorda che accumula una somma mentre invece count è una variabile contatore che si incrementa di uno e alla fine mi dice mi conta quante volte una cosa è stata fatta quindi dopo un po' alla fine si ripetono questi tipi di pattern questi tipi di modi di usare le variabili e alla fine anche dicendo semplicemente guarda fai un contatore dentro un ciclo in cui leggi con un valore sentinella questa frase detta così uno subito la settimana scorsa non avrebbe capito cosa vuol dire ma adesso capiamo i vari ingredienti come si combinano quindi alla fine noi stiamo imparando a ragionare non a livello della singola istruzione ma di una combinazione di istruzioni messa in un certo modo che sappiamo che cosa fa e sappiamo come si può combinare con altre il conteggio si può fare di tutti i valori come nel caso della media quindi ci serviva a calcolare tutti oppure solamente di numeri che hanno certe proprietà ad esempio conta il numero di numeri negativi che sono stati inseriti allora qui ho questa variabile negativi che viene usata come contatore vedete che è l'incremento di 1 ogni volta all'interno in ciclo while e qui il ciclo while è sempre lo stesso legge l'input controlla la sentinella converte è sempre lo stesso la differenza è che l'incremento viene fatto solo sotto una certa condizione quindi in questo caso stiamo elaborando non tutti i dati ma solamente elaborando nel senso di calcolare la somma di contare quanti sono non tutti i dati ma solamente un sotto insieme di essi sotto insieme che soddisfa una certa condizione e quindi sono diciamo combinazioni di cose che già abbiamo visto oppure questa è una variante un pochino diversa e dice leggi dei dati finché non trovi un match un valore valido un valore utile questo valido secondo una certa condizione di validità allora questo può essere usato come questo schema per controllare la lettura dei dati facciamolo direttamente nel codice quindi apriamo un file diverso e lo chiamiamolo lo chiamiamo validazione da input cosa fa il mio validazione da input leggi un dato la tastiera accertandoti garantendo che sia compreso seguiamo gli esempi della slide tra 1 e 100 ok quindi io alla fine ciò che sto facendo è leggere un valore value uguale float di input di valore ti leggo un dato noi sapevamo ci dicono che il valore deve essere compreso tra 1 e 100 allora noi cosa sapevamo fare finora sapevamo dire ok se il valore è minore di 100 o il valore è maggiore sì dai è minore di 100 è minore di 1 o il valore è maggiore di 100 allora stampo un errore altrimenti fai ciò che fai ciò che devi fare con il valore stampalo o quello che devi fare ok quindi nel caso in cui l'utente avesse inserito un valore errato finora non potevamo fare altro che interrompere il programma con un messaggio di errore 100% il valore è sbagliato e quindi non posso farci nulla adesso conosciamo i cicli e quindi ci viene voglia di dire guarda se l'utente ha inserito un valore sbagliato poverino lui diamogli l'opportunità di ripetere l'inserimento del valore stesso ok quindi riorganizziamo questo codice dicendo beh questa operazione di inserimento del dato va ripetuta può essere ripetuta finché il dato alla fine non è valido quindi usiamo il trucco di prima semplicemente per bloccare il programma e obbligare l'utente a reinserire il dato più e più volte il valore più e più volte finché questo valore non diventa valido allora potremmo ad esempio usare lo scrivo qua sotto non l'altra versione quindi questa è una prima versione in cui se il dato è errato interrompi il programma mentre invece ne facciamo una versione in cui se il dato è errato richiedilo chiedi di reinserirlo di reinserirlo che poi quello che succede normalmente allora noi possiamo usare magari il meccanismo con un flag dicendo ok rimani intrappolato qui finché l'utente non inserisce un dato valido while not valid se l'utente inserisce un dato che è valido allora esci dal while perché posso andare avanti perché finalmente ho in mano il dato che mi serve allora faccio leggere il dato e poi controllo se il valore è compreso tra 1 e 100 col minore uguale allora valid uguale true e ho finito vabbè se vogliamo per gentilezza dico rimetti valore errato riprova quindi cosa sto facendo qui vabbè inizializzo il valore valido a falso in modo da poter entrare nel while quindi qua devo sempre inizializzarlo in modo che la prima volta la condizione del while sia vera e qui poiché la condizione mi chiede non valido io devo inizializzarlo a non valido quindi falso leggo il dato nel caso in cui l'utente sia bravo e inserisca subito un dato corretto un dato giusto allora cosa succede che questo value vale non so 50 questa if è vera perché il dato è valido la variabile valid viene messa a true torno su e trovo subito la condizione del while falsa ed esco quindi di fatto viene eseguita questa input e subito dopo esco dal ciclo while perché esco dal ciclo while perché ho messo questa variabile valid a true qui qualcuno potrebbe voler usare un break va bene lo stesso anche usare il break perché a questo punto so che devo uscire se invece il valore inserito non è compreso tra 1 e 100 allora questa condizione if è falsa la variabile valid rimane falsa perché non la sto mettendo vera rimane al valore che aveva allora stamperò questo messaggio d'errore torno su il while trova che valid è ancora falso quindi not valid mi dice che devo ancora ciclare e quindi torno a leggere il valore una seconda volta e così via quindi lo posso fare diciamo così lo schema della iterazione può essere uno qualunque di quelli precedenti col flag col break eccetera questo non importa però la cosa carina è che facendo così ho un meccanismo diciamo così sempre lo stesso che mi permette di andare avanti e se io arrivo qui qui sono sicuro che il value sia tra 1 e 100 e quindi da quel momento in avanti non mi pongo più problema non devo più fare controlli i controlli li ho fatti e sono riuscito a non interrompere il programma ma dare l'opportunità all'utente di ripetere l'inserimento allora Mattia mi chiede invece di trasformare in float l'input si potrebbe confrontare direttamente con le stringhe 1 e 100 per fare direttamente un controllo che esclude le lettere e gli altri caratteri per poi inserire il float oppure controllare il value.isd allora fate molta attenzione se io devo leggere un valore numerico ok è chiaro che usare float è pericoloso su una stringa è sempre pericoloso perché questa stringa qui potrebbe non contenere un numero ok io dovrei avere un modo lo dicevamo ieri per scoprire se quella stringa contiene un numero corretto ok però e quindi voi dite giustamente la riga letta separiamo come abbiamo fatto prima la riga e poi facciamo il float della riga che ho letto ok allora le due condizioni che citate ad esempio Mattia dice qualcosa del tipo if riga è maggiore di 1 and riga è minore di 100 immagino immagino che avessi qualcosa del genere in mente ok mettiamo qua poi lo cancelliamo lo usiamo solamente per fare questo ragionamento no perché lui dice se ho capito bene il ragionamento io prima di convertirlo prima scusamente prima di fare il float lo confronto così così sono sicuro che è comunque un numero completo tra 1 e 100 non è fatto di letter non è fatto perché se fosse se riga fosse una parola ciao allora non sarebbe completo tra 1 e 100 allora così prima controllo se è tra 1 e 100 come stringa e quindi sono sicuro che a questo punto è un valore numerico corretto e e poi potrò fare float in piena sicurezza purtroppo non funziona non funziona perché ad esempio io potrei avere che riga vale 55 kkk allora poiché lui lavora in senso lessicografico va a vedere la prima lettera riga è maggiore di 1 no aspetta sì sì allora questa condizione perché il primo carattere è un 5 è maggiore di 1 e quindi questa condizione è vera e poi vado a controllare il 100 ma poi ho dei caratteri spuri in fondo che soddisfrano comunque la 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 condizione no in realtà aspetta non è 100 ma facciamo così 100 tra 1 e 100 ecco no così 10k non 50 perché 5 quindi questo è maggiore di 1 questo è minore di 1 00 ma poi ci sono queste k che non c'entrano niente quindi quando faccio dei confronti non dovete pensare che lui vada a capire che qui dentro sono dei numeri e semplicemente li confronti come string li confronti in senso alfabetico quindi questo qua purtroppo non funziona non va a selezionare il sotto insieme giusto Andrea invece diceva vado a controllare if riga punto isdigit digit allora se è isdigit allora poi finalmente potrò convertirlo in in float purtroppo anche questo non va bene perché come contro esempio ti do se la riga contiene 3,15 allora questo punto decimale rende falsa la condizione isdigit perché digit controlla solamente se ho delle cifre e il punto decimale purtroppo non è una cifra ok e quindi questo verrebbe rifiutato mentre invece è un valore normale ok si possono fare cose più complicate nel senso che uno può andare carattere per carattere controllare se sono delle cifre e eventualmente il punto ma il punto può esistere al massimo una volta sola però a questo punto poi se io 100 scritto come 10 1 e 2 anche questo è un numero floating point è un numero reale valido 1 per 10 da 2 ma non è riconoscibile facilmente con queste funzionalità qua quindi quello che vi sto dicendo è al momento non abbiamo gli strumenti per poter controllare correttamente se un numero è un valido numero intero o un valido numero reale se non impazzendo fare 12.000 controlli al momento non ce l'abbiamo tra un mese ce l'avremo e sarà catturare l'eccezione cioè di fatto ci sarà un'istruzione che si chiama try in cui dice proviamo a convertirlo se non ci riesce perché è un errore allora lo correggiamo stampiamo messaggio di errore e lo rifacciamo questo lo vedremo nel capitolo quando parleremo nel capitolo 6 quando parleremo della gestione 6 o 7 non ricordo più quando parleremo di gestione delle eccezioni allora a quel punto riusciremo a farlo in modo corretto fino ad allora è inutile che facciamo dei controlli solo fatti a metà perché tanto comunque non riuscirebbero ok non illuvedetevi di farlo è troppo complicato il formato di un numero è una cosa molto complicata da verificare e quindi non abbiamo purtroppo nessuna funzione di libreria is numero non c'è no ma la gestiremo in un modo diverso ok quindi dovremo farla solamente gestendo le eccezioni quindi per ora non preoccupiamocene ci preoccupiamo quindi non ci preoccupiamo della validazione delle stringhe chiaramente ci dobbiamo poi preoccupare se la stringhe è scritta correttamente che poi il valore che essa contiene sia un valore sensato ok poi qualunque sia questo controllo che sto facendo ho un meccanismo generale per permettere di ripetere l'input che era un po' lo scopo di questo esempio che abbiamo fatto se andiamo a vedere altri esempi di tipi di operazioni che si possono fare ad esempio il calcolo del massimo o del minimo ricordate che all'inizio l'abbiamo fatto con i diagrammi di flusso poi l'abbiamo provato a fare con due o tre variabili con un numero finito diciamo definito di variabili se io invece una serie di valori una serie di numeri anche qua posso calcolare il massimo di una serie di numeri inseriti allora come faccio dovrò di fatto il cuore del calcolo del massimo è un'istruzione di questo genere dove io devo confrontare diciamo così devo definire una variabile diciamo il massimo che si ricordi il più grande numero che ho visto finora e poi ogni volta che vedo un numero nuovo vado a controllare se quel numero nuovo è maggiore del più grande che ho visto finora il largest se lo è vado a rimpiazzare il largest che conoscevo col valore corrente ok e quindi se io leggo dei valori che non sono più grandi del massimo che ho visto finora non cambia nulla andrò sempre avanti a un certo punto invece se vedo dei valori più grandi quindi vado ad aggiornare il massimo e alla fine del ciclo while alla fine di esecuzione del ciclo while avrò dentro questa variabile largest il numero più grande che ho visto cioè quello che diciamo così ha aggiornato per l'ultima volta ha reso per diciamo ha soddisfatto per l'ultima volta questa if e quindi ha fatto aggiornare per l'ultima volta questa variabile quindi questo è un altro caso in cui si elaborano dei valori ma solamente alcuni cioè solamente quelli che sono più grandi di un valore di riferimento che viene via via aggiornato attenzione che dobbiamo sempre confrontare i valori col più grande visto finora e non fate l'errore di confrontare ogni dato con quello precedente con quello primo con quello dopo sempre con quello più grande visto finora e anche qua come vedete lo schema del ciclo for è esattamente lo stesso quello che cambia è cosa sto facendo dentro il corpo del ciclo la stessa cosa il minimo funziona esattamente nello stesso modo tranne il fatto che devo mettere un segno di minore ecco vedete che in questi due esempi del massimo e del minimo il problema che avevamo di come fare a inizializzare la variabile massimo-minimo al primo valore iniziale in questo caso qua non ce l'ho più perché diciamo così chi ha fatto questo esempio ha scelto di fare la lettura del primo dato fuori dal ciclo e quindi la lettura del primo dato mi serve anche come inizializzazione della variabile massima o della variabile minima e quindi non devo andarmi a cercare ricordate che per il massimo dovevamo trovare una variabile che fosse un valore che fosse sicuramente più piccolo dei dati oppure per il minimo un valore che fosse sicuramente più grande dei dati come valore iniziale mentre invece qua leggiamo il primo dato e se ho letto un dato solo lui sarà il massimo quando leggerò poi il secondo mi chiederò ok ma è ancora lui il massimo o il minimo oppure il secondo vince rispetto a lui quindi in questo caso mi risolvo due problemi con una sola istruzione cioè quello di inizializzare il dato a un valore sensato perché prendo il primo dato inserito dall'utente e anche quello di di avere la condizione while diciamo così più semplificata perché ho letto ho letto a monte il primo dato ok un ultimo esempio poi rispondo a una domanda e poi vi propongo un esercizio l'ultimo esempio che c'è sulle slide qua su questa parte è se dovessimo fare dei confronti tra valori consecutivi cioè immagina che tu debba inserire dei numeri 1, 3, 5, 7, 9 e il programma ti deve dire guarda che hai inserito due volte lo stesso numero di fila due numeri consecutivi uguali allora quando io leggo un valore chiaramente ho una variabile che si ricorda del valore corrente però come faccio a sapere qual era il valore che avevo inserito prima all'iterazione precedente perché se devo fare controllo se il numero che ho appena inserito è uguale a quello precedente dovrò da qualche parte avere una variabile che si ricorda il valore precedente appunto si può fare tutte le volte che abbiamo bisogno di ricordarci dei valori vecchi possiamo sempre all'interno del ciclo salvare il valore corrente in una variabile se andate a vedere io sto salvando il valore di questa variabile value in una variabile precedente previous subito prima di leggere il nuovo valore perché nel momento in cui leggo questo nuovo valore il valore precedente viene perso ovviamente allora prima di perdere il valore precedente me lo copio in una variabile me lo copio in una variabile e quindi nelle righe successive avrò questo value che fa riferimento al valore appena letto e questo previous che fa riferimento al valore precedente alla lettura in realtà l'ho salvato dentro previous l'ho chiamato dentro previous ma io so che previous altro non è che value un attimo prima di leggere l'ultimo valore e quindi il penultimo in automatico quindi in questo caso usando questa coppia di variabili poi cosa succede all'interazione successiva il vecchio previous viene dimenticato il vecchio value diventa previous se il nuovo value viene letto e quindi si va sempre avanti avendo sempre una coppia di valori l'ultimo e penultimo l'ultimo e penultimo ad ogni iterazione il penultimo vecchio viene buttato via l'ultimo vecchio diventa il penultimo e il nuovo viene letto e questo mi permette appunto a questa istruzione qui dove c'è la if di andare a controllare se l'ultimo value è uguale al penultimo previous in questo caso dite guarda che hai inserito il numero duplicato insomma quello che si è quello che devo fare quindi questa è un'altra tecnica di mantenere la memoria dei dati che sono stati appena visti di recente ok tutte queste diciamo così tecniche di base le possiamo poi combinare quando faremo esercizi un pochino un pochino più complessi un pochino più ampi ok io vi propongo spendo l'ultimo minuto per proporvi un esercizio che potete provare a fare poi lo discutiamo se volete su Slack e così condividiamo le varie è un esercizio di indovina il numero l'esercizio di indovina il numero è un esercizio in cui ci sono due possibili varianti il computer pensa un numero tra 1 e 100 e il giocatore deve indovinare tra il numero però il computer può solo rispondere alto o basso in funzione ai vari tentativi quindi io il computer pensa a un numero io dico 30 e il computer mi dice troppo basso ok allora dirò 60 e il computer mi dirà troppo alto e vado avanti così fino a quando non riesco a indovinare il numero poi volendo se volete si può aggiungere si può aggiungere un numero massimo di tentativi eccetera si può rendere più complicato la seconda versione di questo che ovviamente sarà un esercizio diverso è l'umano pensa a un numero tra 1 e 100 e il computer lo deve indovinare nel minimo numero di tentativi possibili quindi in questo caso sono io che penso un numero e il computer farà i tentativi e quindi dovremo inventarci la logica che poi non è così difficile con cui il computer farà i tentativi di indovinare il numero e io umano a questo punto dirò troppo alto e troppo basso fino a quando il computer non indovinerà il numero stesso quindi questo è un semplice esercizio che gioca un po' con i cicli e con gli input con il controllo degli input un minimo di aritmetica per numeri casuali c'è il modulo random però vi lascio un pochino provare e scoprire le varie cose e poi volentieri nei prossimi giorni magari via chat riusciamo a fare dei passettini avanti su questo esercizio nel primo caso il computer pensa al numero lo inventa lui casualmente c'è un modulo che si chiama random andate a vedere random dove c'è tutte le funzioni che servono per generare numeri casuali ok io vi lascio a questo punto cominciate a pensare all'esercizio se avete dei dubbi o delle idee ce le discutiamo nei prossimi giorni via chat c'è una domanda di Michele che è rimasta in sospeso ma ti rispondo direttamente nella chat perché il tempo l'abbiamo finito quindi provo a risponderti diciamo così testualmente sì adesso va bene anunzio metto in bella questo testo lo scrivo per bene e così lo incolliamo vi faccio direttamente un post con le specifiche scritte bene del testo così tutti andiamo a risolvere lo stesso esercizio per ora vi ringrazio noi ci vediamo come solito la settimana prossima ma nel frattempo sappiamo che cosa fare con cosa divertirci ciao a tutti arrivederci grazie a tutti